Ispira ed espira. E ad ogni ispirazione rilassati e lascia andare le tensioni. Inizia a immaginare di trovarti in un meraviglioso giardino. Guardati intorno, che cosa vedi? Puoi dirmelo? Un piccolo uccello. 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 Bene. Inizia a toccare con le mani l'erba, il prato. Un piccolo uccello. E inizia a sentirne l'odore, i profumi. Senti il vento che accalezza la tua pelle e godi del calore di un sole meraviglioso che ti scalda. Ora immagina che su nel cielo ci sia come una botola, un'apertura che porta ai piani superiori, qualcosa che va oltre il cielo. Cerca di arrivare lassù, puoi utilizzare qualsiasi cosa tu voglia, una scala, volare, una pianta che si arrabbica fino a lassù, tutto ciò che desideri. Arrivi alla botola e la oltrepassi e ti ritrovi in un mondo completamente pieno di luce, completamente bianco. Tutto è luce, non si vede nient'altro che luce. Ora in lontananza si sta avvicinando un animale, il tuo animale di potere. lo vedi arrivare e diventa sempre più chiaro, sempre più limpido, fino ad arrivare avanti a te, avanti ai tuoi occhi. Che animale vedi? Bene. Sarà l'animale che ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Puoi dargli un nome se vuoi. ringrazialo dell'aiuto che ti darà. Se vuoi, puoi abbracciarlo, puoi accarezzarlo. Puoi sentirti protetta. perché noi e lì sono esclusivamente per te. lasciarlo andare. non vedi allontanarsi fino a scomparire. ora sei serena che il suo spirito è lì con te. ritorna verso l'apertura della botola e riscendi nel tuo giardino. mi dicevi che hai un piccolo problema con i tuoi occhi. pensa ai tuoi occhi e a un simbolo che ti si presenterà davanti che indicherà il tuo problema. guardalo manifestarsi davanti a te. che cosa vedi? un diamante un diamante un diamante e soldi e soldi cosa puoi fare? con questo simbolo? prova a utilizzarlo in qualche modo oppure trasformalo oppure trasformalo in luce che cosa fa questa luce? un diamante e illumina il tuo giardino? si osserva allora il tuo giardino lo vedi meglio? è come prima? oppure è cambiato qualcosa? brilla 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 tutto completamente? no solo nelle vicinanze della diamante prova ad aumentare l'intensità prova a illuminare oltre oppure spostalo portalo in alto perché è più importante meglio perché possa illuminare anche a distanza hai una visione più chiara? molto più chiara bene ok allora per il momento lasciamolo lì e diamogli la possibilità di illuminare il tuo giardino anche a distanza donando più chiarezza più lucidità riporta riporta ora l'attenzione su di te pensando al respiro respira e respira fai un respiro profondo inizia a muovere leggermente il corpo e quando sei pronta può riaprire i occhi poi riaprire i occhi bene bene come ti senti? sei per il viaggio eh? hai visto che la luce era molto lucida l'attenzione su di te l'attenzione su di te